Ciao ragazzi, oggi andremo a vedere il riscaldamento dove andremo a coinvolgere tutta la nostra parte inferiore, ovvero le nostre gambe. Buona visione! Buona visione! Buona visione! Buona visione! Buona visione! E questi sono gli esercizi generici che potreste andare ad eseguirli per scaldare bene le tue gambe. Ci vediamo al prossimo video e buon allenamento, anzi buon riscaldamento!